Il programma della De Filippi potrebbe tornare a occupare il Prime Time, questa volta però con una formula ancora più invitante. Uomini e donne arriverà davvero in prima serata? L'indiscrezione vede il programma di Maria De Filippi in un eventuale spazio del Prime Time. Non sarebbe una prima volta, in quanto la trasmissione è già in passato approdata in prima serata. Ebbene, secondo Blasting News, i protagonisti del famoso show con Gianni Sperti e Tina Cipollari a settembre, potrebbero avere riservato a loro una prima serata su Canale 5, una volta a settimana. Questo perché prenderebbe così il posto di uno dei due appuntamenti settimanali del grande fratello VIP. Dopo la svolta di Mediaset con le nuove disposizioni di Pier Silvio Berlusconi, il reality show pare avrà una durata più breve. Oltre questo, le indiscrezioni parlano di un unico e solo appuntamento settimanale per il GF VIP di Signorini da Settembre. L'altra serata dovrebbe essere occupata dal famoso dating show del Trono Over, e del Trono Classico. Ovviamente non c'è alcuna notizia ufficiale che va a confermare questo rumor. Dunque, è bene prendere questo con le pinze. Questa volta, Uomini e Donne in prima serata, non dovrebbe andare in onda con degli appuntamenti speciali. Semplicemente, se questa indiscrezione si rivelasse realtà, ci sarebbe una puntata fissa del programma in onda ogni settimana. In questo modo, andrebbe a togliere spazio al GF VIP di Alfonso Signorini, che è andato spesso in onda con il doppio appuntamento. Grazie a tutti.